questo è un uomo dal passo mi sembra un uomo secondo te dal passo mi sembra un uomo ora so che andrò da voi però calmo la passione quella premia si comanda le più belle già mi chiantano su face a me pregunto porche se sopassa lo sai bella atmosfera ti prego non mi uccidere il mondo chi se ne frega dei tuoi mod dei tuoi sedi dei tuoi bla bla voglio stare in gotta voglio stare in gotta bella conspira ti prego non mi uccidere il mondo io sono il canto dagli anni 80 e la passione non mi manca io dico storie le casette non le rego non sarò il primo ma non è che il peggio sono solo un catastore racconta anche degli altri tu con le cover vuoi emigliarmi un canto gioco e scrivo vuoi solo criticarmi e vado da un bella atmosfera ti prego non mi uccidere il mondo chi se ne frega dei bla bla dei signori della trap ora spacco ci credo ora spacco ci credo voglio stare in gotta mamma mia mamma mia mamma mia voglio stare in gotta mamma mia mamma mia io scusa non mi sono girata perché qua abbiamo il meglio dei Napoli e quindi io ho un altro tipo di percorso in mente però sei bravissimo grazie veramente detto da te che sei un'icona è una bomba sei guarda ciao come ti chiami? mi chiamo Pietro Dall'Oio ma il mio vero nome nel trap è Pietro Sauro Pietro Sauro cioè già c'è il nome da superstar Pietro Sauro Pietro Sauro sai perché? come dinosauro sono forse il cantante trap più vecchio del mondo quanti anni hai? ti posso chiedere? 63 ma sei un miro guarda perché ti sei avvicinato alla trap? io ho iniziato con la rap la trap perché io sono più che altro mi considero un poeta cantante insomma scrivo canzoni e quindi nel trap e nella rap mi trovo molto più libero nei testi io vengo però dalla war music dalla salsa da canto-canta autorale sei urban comunque io ho iniziato con le congas con le percussioni afro-cubane ho suonato a Lavana ho fatto tutto grande però devo scrivere canzoni e mi diverto da morire a prescindere di quello che succederà io mi diverto ma nella vita cosa fai tu? adesso ho una base di rafting a Terni alla cascata delle marmore prima ero broker finanziario però io ho fatto tutta la vita il musicista perché facevo il lavoro come libero professionista quindi ho fatto sempre concerti eccetera e avendo quattro figli non me la sono sentita di vivere solo di questo però la musica l'ho sempre fatta professionalmente Pietro ma i tuoi figli i tuoi figli vengono ai concerti tuoi? come no? vengono e io attraverso i miei brani dialogo con i miei figli è bello e quindi il bello di questa manifestazione trovo sia proprio questa cioè che noi meno giovani possiamo ma la musica non ce l'ha età quindi non ti preoccupare vero non ce l'ha la musica non ha età non ti preoccupare ah si si sta poi è bello che comunque alla tua età non tutti si avvicinano a questo genere quindi è figo il fatto che tu l'abbia fatto è figo il fatto che tu abbia aggiunto delle tue anche idee nella canzone e soprattutto non farti abbindolare da Clementino perché lui è il rap old school io sono la più giovane posso fare un mega complimento? sei più bravo tu che tanti rapper adesso ti giuro Pietro adesso hai due scelte hai la parte anziana rappresentata da Clementino e la parte giovane rappresentata da Jasmine adesso la vera trap è qui cosa scegli? guarda io senza togliere nulla Jasmine no e io però Clementino lo devo scegliere ma tu sei la vita amici bravo bravo ma vieni però Clementino non mi fa fa codere per favore si mi dai un dietro tac boom boom tac tu mi do sol ah ah ma si entra sono capo c'è chi è niente niente mentre parte ne basti rimand ce rimano soltanto vien oh vien fratello sul microfono sono un minotauro faccio un saluto a Pietro Sauro c'è qua giù on the nice Yenna Waiterman benvenuti a The Voice quando prendi questo caffè è dedicato anche a Loredana per te il superflok è pronto your address the best is Gigi D'Alessio yes I sullo stile più strano faccio un saluto a mio fratello Albano microphone check tanti sorrisi un saluto a Jasmine Carrisi so quel flu che ti porto è mio e Yenna Waiter in alto come Dio per quello che ti porta ancora vai ma Pietro Sauro resta mio Re ciao 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 egt quando Grazie a tutti